4, 3, 2, 1, buona voce! Con il countdown nella Galleria Principe di Napoli, davanti a oltre 500 cittadini e turisti, è iniziato ufficialmente sabato pomeriggio, l'anno del coniglio. Sesta edizione in città del Capodanno cinese. La festa che sancisce l'inizio del 2023 ha visto protagonista il MAN, il Museo Nazionale di Napoli, dove tra opere d'arte millenarie si sono svolte le tantissime attività previste per le celebrazioni del nuovo anno. Dal corso d'intaglio della carta a quello di calligrafia cinese, da esibizioni di canto al Tai Chi. Per tutta la giornata, oltre 2.500 i turisti e i cittadini che hanno staccato il biglietto e hanno preso parte alle attività organizzate dall'Istituto Confucio e dall'Agenzia di Comunicazione Live Code Full Media Agency, diretta da Valerio Granato. È stato un bel evento, ci siamo divertiti un sacco e soprattutto la risposta del pubblico è stata fenomenale. Ci aspettavamo tante persone, ma ogni volta riescono a stupirci, ne sono note molte di più. Il Museo Gremito di Persuone, la Galleria Principe di Napoli, di persone che si divertono e festeggiano insieme, per noi sono motivo davvero di grande gioia. Conosciuto anche come festa di primavera per il 2023, si celebra in Cina il segno del coniglio d'acqua, caratterizzato da quiete, riservatezza, grande capacità di introspezione e fortuna. Nella Galleria Principe di Napoli, poi, corso dedicato alla pasta cinese per eccellenza, i ravioli a cui hanno preso parte adulti e bambini, infine le esibizioni di ballerini, performer e l'immancabile danza del leone. Il leone è una parte molto importante, soprattutto per il Capodanno cinese, perché ha la funzione di portare auspicio, benemerenza, quindi portare e augurare un buon anno. Infatti si è solito farle molte feste del Capodanno. Soddisfazione nelle parole del professor Chengon Jin, codirettore dell'Istituto Confucio. Oggi è un giorno speciale, è il nuovo anno, l'anno del coniglio. Per noi cinesi è un evento importantissimo che festeggiamo con gioia con i nostri concittadini e i napoletani, in un luogo simbolo come il Museo Nazionale, una testimonianza di vicinanza ancora una volta tra i nostri due popoli. A presto a presto a presto.